17 agosto 2024 Francesco e Federica Francesco e Federica Francesco e Federica Francesco e Federica Lui è un gandano San Paolo definisce questo sacramento un mistero grande, perché veramente stiamo celebrando un mistero grande, non solo il mistero dell'Eucaristia, ma anche il mistero dell'amore, quell'amore che è stato riversato nei vostri cuori, quell'amore che vi ha cercato, voi vi siete lasciati trovare da quest'amore e avete detto il vostro sì, perché amare è una decisione. E siete venuti in chiesa proprio per chiedere al Signore la sua benedizione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.